Il migliore sodio non ci poteva essere, una doppietta, un palo, sei stato sempre nel vivo nel gioco. Una bella soddisfazione per te oggi? Sì, sicuramente dovevamo vincere perché comunque il partito bene è sempre importante, poi tra virgolette siamo obbligati ogni partita a vincere, quindi soprattutto la prima dovevamo far vedere quello che possiamo fare, quindi partire così è bene. Il presidente non è rimasto soddisfatto del vostro primo tempo, qualcosina in più secondo lui avete fatto nella ripresa e si sono visti i risultati, anche se sembra che in alcuni momenti della partita venite presi da un momento di disattenzione, da qualche leggerezza. Sicuramente dobbiamo migliorare, certe volte sembra che ci mettiamo un po' di superficialità, come se ci sentiamo già sicuri del risultato. Questa è una lacuna che dobbiamo migliorare perché poi dopo capita un tiro deviato che si riapre la partita, quindi dobbiamo imparare a tutti i 90 minuti stare concentrati perché poi arriveranno anche partiti più difficili. Dove se hai questi momenti in cui perdi un po' di concentrazione sicuramente poi verrai punito. Trovi meglio da terminale unico o quando entra Togalli con un appoggio? Io ho giocato in questi anni in tutti i modi, anche trequartista, quindi è normale che cambia il tipo di gioco, però alla fine non ho grosse difficoltà sia con un tipo di giocatore che con un altro. L'importante è dare il contributo alla squadra, oggi è stato facendo gol, domenica penso facendo altre cose, però per queste ultime due partite sono contento. Grazie a tutti!